Adesso, per quanto riguarda gli esempi e gli esercizi sulle applicazioni della teoria di integrazione per parte e della teoria di integrazione per sostituzione alla ricerca di primitive, quindi al capo di integrali, questi li faremo in maniera esaustiva domani. Forse qualcosa inizieremo già oggi, però prima di sviluppare questo argomento voglio completare la teoria del corso. Mi è rimasto un solo argomento da esplorare che sono gli integrali impropri. Quando è che si parla di un integrale improprio? Allora vi ricordo che se F è integrabile secondo Riemann su R, o generalizzati, poi lo scriviamo. Questo implicava che F è limitata e nulla fuori di un intervallo. Questo, se vi ricordate, vuol dire sostanzialmente che il grafico di F fuori di una certa scatola deve stare sull'asse delle ascesse. Diciamo, o sta dentro questo rettangolo, o fuori di questo rettangolo sta sull'asse delle ascesse. Questo vuol dire limitata e nulla fuori di un intervallo. Ovviamente non bastava che fosse limitata e nulla fuori di un intervallo, quindi per esempio la funzione di F è limitata e nulla fuori di un intervallo, ma non era integrata. Il problema però rimane, e se F non è limitata? Quindi si può integrare una funzione non limitata, o non nulla, nulla fuori di un intervallo. In certi casi la risposta è sì. Allora, per poterlo fare, però, non si può fare con l'integrale di Riemann, per definizione, ma si deve fare in un altro modo. Allora, andiamo a introdurre questo argomento con l'integrale, quello che si chiama integrale improprio, o, per meglio dire, integrale generalizzato. Facciamo il primo caso. Abbiamo una funzione F definita su una semiretta a valori nero. Quindi prendiamo una funzione che non è nulla fuori di un intervallo, perché vedete, è definita stavolta su una semiretta. Non sto imponendo che sia fuori di AB. Quali sono sono delle ulteriori condizioni? Le ulteriori condizioni sono queste. F deve essere integrabile secondo Riemann su AB, per ogni B maggiore o uguale di A, B appartenente a R. E poi, esiste il limite, il limite, per B che tende a più infinito dell'integrale tra A e B di F di X di X. In tal caso, l'integrale tra A e B di F di X di X è uguale, per definizione, esattamente l'integrale tra A e B di X di X di X. o o facciamo attenzione però, perché qui, in questa definizione sono nascoste delle insidie. Andiamo a fare degli esempi. Cominciamo con il caso di una funzione f da a a valore, diciamo a più infinito, a valore in r, con f maggiore o uguale a zero, una funzione nomica di segno costante. In questo caso è più semplice, perché questo limite qua, per dire che la funzione sia integrante nel senso generalizzato, e questo si chiama integrale nel senso generalizzato, integrale in pro, dobbiamo anche imporre che il limite sia un numero reale. Questo limite potrebbe anche esistere, essere un numero reale, non esistere, oppure potrebbe fare anche più infinito e meno infinito. Andiamo a vedere, nel caso di una funzione positiva, supponiamo sempre per ipotesi che f sia integrante nel secondo rimano e su a b, per ogni b partenente, diciamo maggiore o uguale a, allora qui il limite per b che tende a più infinito dell'integrale tra a e b di f di x di dx? Io dico che esiste sempre, soltanto che potrebbe non essere finito, perché? Se vado a prendere la funzione f grande di b uguale all'integrale tra a e b di f piccolo di x di x di dx, com'è questa funzione, come funzione della variabile b? È una funzione monotona, non decrete, perché? Perché se io prendo c, se c è maggiore di b, f grande di c è uguale all'integrale tra a e c di f piccolo di x di dx, che è uguale all'integrale tra a e b di f piccolo di x di dx, più l'integrale tra b e c di f piccolo di x di dx, ok? Se vi ricordate c'era questa funzione, ma siccome questo qua, questo integrale qua è positivo, questo è più grande di f grande di t, quindi che vuol dire? Vuol dire che la nostra funzione è una funzione che, mano a mano che, in modo da sostanza, io parto da a, la funzione è positiva, mano a mano che sposto b a destra, l'area al di sotto del grafico della funzione, tra il grafico della funzione e l'asse della scissa, aumenta, facciamo un pezzetto in più. Ora, però, quindi, cosa vuol dire? Che questo limite esiste, questo limite è uguale all'estremo superiore dell'integrale tra a e b di f piccolo di x di dx per b maggiore o uguale a, soltanto che questo estremo superiore io so soltanto che è un numero positivo, però potrebbe valere anche più infinito. Cioè, la situazione, se ci fate un attimo, è perfettamente analoga a quella delle serie a termine di segno costante. Sommando la serie a termine di segno costante, la somma mi viene o finita o la serie diverte. La stessa cosa accade per gli integrali delle funzioni a termine, diciamo, alle funzioni di segno costante. Quando vado a fare l'integrale generalizzato? O questo viene finito oppure l'integrale diverte. Quindi, se questo limite viene finito, diciamo che la funzione è integrabile in senso generalizzato. Se questo limite fa più infinito, diciamo che l'integrale diverte positivamente. Se... 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 Diverse... Diverse positivamente. Quindi, se la funzione è di segno costante, quando vado a fare l'integrale in senso generalizzato tra a e più infinito. O l'integrale viene finito o diverge positivamente. Se da disegno negativo, l'integrale viene finito o diverge negativamente. Se la funzione ha un segno qualunque, cioè non ha segno costante, l'integrale può esistere finito, può divergere positivamente, divergere negativamente, oppure oscillare, nel senso che il corrente non esiste, esattamente come per l'esercizio. Allora, andiamo a vedere qualche esempio. Andiamo a fare, cioè, l'integrale tra 1 e più infinito di 1 fratto x all'alfa in dx, dove alfa è un esponente positivo. Allora, questo chi è? Per definizione, è il limite per b che tende a più infinito dell'integrale tra 1 fino a b di 1 fratto x all'alfa in dx. uguale, per adesso supponiamo alfa diverso da 1, se alfa è uguale a 1, poi lo facciamo a parte. Questa chi funzione è? È x alla meno alfa, quindi la prima idea chi è? È x alla 1 meno alfa fratto 1 meno alfa, ovviamente per dividere per 1 meno alfa deve essere diverso alfa da 1. valutato tra b e a, quindi questo è 1 fratto 1 meno alfa, per b alla 1 meno alfa, meno 1 alla 1 meno alfa, che è comunque un coso. Comunque l'esponente è diverso da z. Adesso cosa succede? Quando faccio tendere b a infinito, ah scusate ci manca il limite, uguale, limite, che è b che tende a più infinito, uguale, limite, che è b che tende a più infinito, 1 fratto 1 meno alfa, ok. Adesso, quanto fa questo limite? Allora io ho due casi, se alfa è minore di 1 e se alfa è maggiore di 1. Se alfa è minore di 1, allora, 1 meno alfa è positivo, positivo. Ma allora b elevato alla 1 meno alfa tende a più infinito. 1 fratto 1 meno alfa, d'altro canto è una costante positiva, perché alfa è minore di 1, quindi questo è positivo. Quindi positivo per più infinito, questo limite fa più infinito. E torna, perché comunque ricordatevi che stiamo integrando una funzione di segno positivo, quindi il limite non può fare mai meno infinito. Se invece alfa è maggiore di 1, questo 1 meno alfa, l'esponente è negativo. Allora, se l'esponente è negativo e il b tende a più infinito, vuol dire che se b stessi al denominatore è come esponente positivo. Quindi abbiamo 1 su infinito, quindi questo tende a 0. ci rimane meno 1 fratto 1 meno alfa, quindi, semplificando, 1 fratto alfa, che è un numero positivo. E anche qua torna, perché quel limite non può essere negativo, perché la funzione integrata, questa funzione integrata, è positiva. Andiamo a vedere, invece, nel caso alfa uguale a 1. In questo caso devo fare il limite per b che tende a più infinito, l'integrale tra 1 e b di 1 su x in dx. Ma questo altro non è che il limite per b che tende a più infinito è logaritmo di b, perché la prima linea di 1 su x è logaritmo, logaritmo valutato in b vale logaritmo di b, valutato in 1 uguale a 0, questo limite fa più infinito. Quindi io che cosa posso dire, sintetizzando? Posso dire che l'integrale, in senso generalizzato, della funzione tra 1 e più infinito, 1 su x alla alfa in dx, fa più infinito, nel senso che diverge se alfa è minore o uguale a 1, e fa 1 fratto alfa meno 1, se alfa è minore. Quindi, per esempio, l'integrale tra 1 e più infinito di 1 su x quadro in dx, fa 1 fratto 2 meno 1, fa 1. Ovviamente, negli esercizi, noi non ci sogniamo di fare tutti i limiti, cioè i limiti li facciamo, ma in maniera automatica, cioè quando vado a fare questo integrale qua, cosa dico? Dico che la prima idea di questa, la funzione è meno 1 su x, valutata a più infinito e valutata a 1. Ma valutata a più infinito, 1 su x tende a 0, meno 1 su x tende a 0, quindi la valutazione la faccio mediante il limite, vale 0. Valutata in 1 vale meno 1, siccome devo fare f di b meno f di a 0 meno meno 1, 0 meno meno 1, fa 1. Ed è esattamente come aveva fatto tutti i limiti. quindi io, quando farò gli esercizi, l'integrale in senso generalizzato di 1 su x quadro lo farò così. Ok? Se invece devo fare l'integrale in senso generalizzato di 1 su radice di x, qua dirò che la primitiva è un mezzo, è 2 radice di x. Valutato a più infinito, a 1 è 4, gli fa più infinito. Però attenzione, attenzione, che questo discorso è più infinito nel senso che diverge. Però questo tipo di scrittura la userò con disinvoltura solo quando le funzioni hanno segno costante. perché se vado a usare con disinvoltura questo tipo di scrittura, quando le funzioni hanno segno costante, potrei avere dei problemi. Insomma, in buona sostanza, quando la funzione non ha segno costante, è meglio dividere la parte positiva e la parte negativa. Quindi, cosa abbiamo dato per ora? Abbiamo dato la definizione di una funzione integrabile in senso generalizzato su una semiretta. Abbiamo detto, la funzione deve essere integrabile su tutti gli intervalli del tipo AB, poi deve esistere il limite per B che tende al vinto degli integrali. Se esiste, quello è l'integrale in senso generalizzato. Se la funzione, in particolare, è il disegno costante, questo limite esiste sempre e può solo divergere lo stile. In particolare, come esempio, abbiamo dato l'integrale in senso generalizzato tra 1 e l'infinito della funzione 1 su x all'alpha. Questo integrale converge quando converge quando alfa è fagg1 di 1. Praticamente, faccio anche graficamente, se io prendo la funzione 1 su x all'alpha, come è fatto il grafico? Scendi a 0, la funzione è monotone recrescente, però se alfa è maggiore, la funzione scende più velocemente. Quindi più alfa è grande, più è piccola quest'area. E infatti, fino a 1 quest'area si mantiene infinita, da 1 in poi quest'area è infinita, cioè per alfa maggiore di 1, non solo, ma effettivamente per grande alfa si vede che quest'area è più piccola. Quindi nonostante, per esempio, la funzione 1 su x all'alpha, prendo f di x uguale a 1 su x all'alpha, qui sotto, nonostante la figura sia illimitata, l'area che sta qua sotto è 1. Quindi anche figure illimitate possono avere area pari a 1 o pari a un numero finito. Quindi non è necessario affinché una figura abbia area limitante, però chiaramente l'area deve essere finita in senso di cercare. Andiamo a vedere un'altra definizione, sempre in senso generalizzato, cioè il secondo caso. Secondo caso, Allora, stavolta f è definita da ab a valori in r ed f non è limitata nell'intorno di a. come prototipo pensate stavolta alla funzione 1 fratto x all'alpha però stavolta non tra non tra 1 e più infinito ma tra 0 e 1. ovviamente in 0 non la potete definire però ottenete lo stesso in questo caso la funzione di segno costante ottenete lo stesso una figura di cui vogliamo calcolare l'area cioè qual è la figura? la figura compresa tra il grafico della funzione e l'asse del processo. Allora, per poter sperare di calcolare quest'area in generale, non solo nel caso dell'esempio ci vogliono anche qui delle ipotesi l'ipotesi sono che f sia integrabile secondo Riemann in a più epsilon b per ogni epsilon positivo cioè nel caso dell'esempio questo è vero perché se io appena mi scosto da a nel caso di appena mi scosto da 0 l'integrale è certamente finito per calcolare e poi deve esistere il limite per epsilon che tende a 0 da destra dell'integrale tra a più epsilon e b di f di x in dx in questo caso questo limite deve essere un numero reale che si pone l'integrale tra a e b di f di x in dx esattamente questo limite per x per tende a 0 da destra dell'integrale tra a più epsilon e b di f di x in dx chiaro? quindi stavo lì allora qual'è l'idea? come al solito l'idea è io ho dei problemi in un punto se vi ricordate per avere una funzione di graffi secondo Riemann ci vuole sempre che il link diciamo il grafico della funzione deve stare dentro una scala allora qual'è l'idea? prima l'idea era nel caso precedente l'idea era prendo la scatola fino a qui fino a qui fino a qui e poi ho una successione di scatole che invadono tutto R2 e faccio il limite il limite di che cosa? è l'area che devo calcolare ma solo quella che cadeva dentro la scatola però all'alto la scatola e poi faccio il limite stavolta siccome il problema ce l'ho vicino ad A io cosa faccio? prendo e calcolo quest'area non diciamo non mi serve andare verso infinito perchè la mia funzione è definita solo da 0 e 1 però io ho dei problemi vicino a 0 allora cosa faccio? invece di fare l'integrale tra 0 e 1 faccio l'integrale tra Epsilon e 1 e poi cosa faccio? riduvo Epsilon e faccio tendere Epsilon a 0 da destra da destra perchè i problemi ce l'ho nell'estremo di sinistra se gli estremi li avessi avuto nei problemi li avessi avuti nell'estremo di destra avrei fatto l'integrale tra Epsilon e B meno Epsilon e poi avrei fatto l'integrale tra Epsilon e Z da destra questo si chiama integrale in senso generalizzato ovviamente ovviamente se viceversa questo l'integrale questo limite fa più infinito diciamo che l'integrale in senso generalizzato diverge costitivamente se fa meno infinito diciamo diverge negativamente seno è l'integrale chiaro? ok andiamo a fare un altro esempio esempio andiamo a fare l'integrale tra 0 e 1 di 1 fratto x all'alfa in dx anche in questo caso allora qui cosa succede? questo è il limite per Epsilon che tende a 0 da destra l'integrale tra Epsilon e 1 di 1 frx alla A guardate a fare questo integrale viene x alla 1 meno A fratto 1 meno A valutato tra 1 ed Epsilon quindi viene 1 fratto 1 meno A per 1 meno Epsilon alla 1 meno A attenzione questo per A fa diverso da 1 ci manca sempre lì ma quanto fa questo limite? attenzione che stavolta se A è minore di 1 1 meno A è positivo ma stavolta Epsilon tende a 0 allora se l'esponente è positivo ed Epsilon tende a 0 Epsilon alla 1 meno A fa 0 quindi questo fa 1 fratto 1 meno A torna? torna perfettamente perché vi ricordo che A è minore di 1 quindi questo è positivo e quindi può benissimo essere che quest'area sia finita perché deve essere di segno positivo perché stava di sopra della segna se invece A è maggiore di 1 allora questo esponente tende a questo esponente è negativo Epsilon tende a 0 da destra quindi con meno davanti tende a meno infinito ma ricordandosi che 1 meno A è negativo pure lui questo limite che è il rapporto tenderà a 2 quindi effettivamente ovviamente se A è uguale a 1 il difilindro del conto lo dobbiamo fare a parte quindi il limite per Epsilon che tende a 0 da destra l'integrale tra Epsilon e 1 di 1 su x in dx è uguale al logaritmo a meno logaritmo al limite per Epsilon che tende a 0 da destra di meno e lo porto fuori logaritmo a Epsilon a per Epsilon che tende a perché la primitiva è logaritmo 1 meno logaritmo a Epsilon e quindi per Epsilon che tende a 0 da destra logaritmo a Epsilon tende a meno infinito con meno davanti ma anche qui tende a meno quindi in realtà possiamo sintetizzare che questo limite fa più infinito anche nel caso che A a 1 ok? quindi possiamo per meglio dire possiamo dire che l'integrale da 1 a più infinito di 1 su scusate da 0 ad 1 di 1 su x alla alpha in dx fa più infinito se A è maggiore o uguale a 1 fa 1 fratto 1 meno A se A è maggiore quindi una funzione che ha un integrale finito in senso generalizzato si dice sommabile come la serie quindi quant'è che la funzione 1 su x alla alpha è sommabile? A infinito è sommabile quando alfa è maggiore di 1 A 0 vicino a 0 è sommabile quando alfa invece è minore di 1 se alfa è uguale a 1 non è sommabile né quando vada infinito né quando vada vicino a 0 cioè ovviamente per quale motivo qua è sommabile quando alfa è minore di 1? perché? allora voi vedete per esempio prendete la funzione 1 su x adesso prendiamo la funzione 1 su x quadro 1 su x quadro e 1 su x chi è più grande? 1 su x o 1 più x quadro? 1 su x quadro 1 su x quadro perché x è minore di 1 x quadro è più piccolo di x 1 su x quadro è più grande di x viceversa 1 su radice di x sta di sotto questo è 1 su x se vado a vedere 1 su radice di x insomma se x 1 su radice di x è più piccolo di 1 su x è più piccolo di 1 su x quadro qui vedete perché passando ai reciproci le sguaglianze si mettono quindi è più facile che quando vado a fare l'integrale questo sia venito rispetto a questo e questo infatti questo l'integrale di questo fa più infinito l'integrale di questo fa più infinito l'integrale di questo invece fa 2 e ha uguale a me 2 chiaro? quindi questo per quanto riguarda le definizioni ecco facciamo un'altra prima di fare degli ulteriori esempi di inquadrare qualche piccolo problema che danno questi integrali in generale voglio fare un caso particolare lo scrivo sinteticamente non sto a fare tutte le definizioni vi dico solo come funziona il brano allora supponiamo di avere una funzione definita su tutto m tranne il numero finito di min allora questa funzione come fa? fa così allora se vogliamo vediamo se io vi chiedo di calcolare l'integrale di questa funzione su tutto r voi cosa dovete fare? allora supponiamo che qua siamo a a 2 e qua siamo a c chiamiamolo a 2 ok? allora voi dovete valutare queste aree vedete qua la funzione è positiva qua la funzione è negativa allora qui avete un unico problema allora diciamo che qua dovete andare a fare l'integrale tra b e più infinito di f di x x nel senso del limite e questa funzione come vedete continua su ab scusate su b c per ogni c poi vedete il limite per c che tende più più a e quindi rientriamo nel primo caso qui la funzione tende a meno infinito sia di qua che di qua allora come si fa? perché abbiamo problemi sia in a che in b si prende un punto quello che mi pare un punto c compreso e allora cosa si fa? si fa l'integrale tra a fino a c di f di x x e poi si fa l'integrale tra c fino a b di f di x in dx fate attenzione che questo qua lo devo fare come limite per epsilon che tende a zero da destra dell'integrale tra a più epsilon e c di f di x in dx quest'altro lo devo fare come limite per epsilon che tende a zero da destra dell'integrale tra c b e b meno y di f di x di x cioè io mi devo ogni volta discostare dal punto che mi crea problemi qua il punto che mi crea problemi è a qua il punto che mi crea problemi è b poi i limiti si fanno uno alla volta cioè i problemi si prendono uno alla volta questa è una buona norma anche per la vita di tutti i giorni cioè i problemi si affrontano uno alla volta non è che devo fare tre o quattro cose insieme quando vado a fare tre o quattro cose insieme posso avere dei problemi stesso discorso qua qui ho un problema sia qui che qui allora cosa devo fare devo spaccare in un punto che lo chiamo d e dovrò fare l'integrale tra meno infinito fino a d di f di x in dx poi l'integrale tra d e a di f di x se tutti è uno, due, tre, quattro e cinque questi numeri sono finiti faccio la somma e mi trovo se alcuni di questi numeri fanno più infinito e gli altri sono finiti posso dire che l'integrale diverge positivamente se almeno uno di questi integrali diverge positivamente e almeno uno diverge negativamente la funzione non è integrabile perché a più infinito meno infinito non si può dare alcun senso neanche nel senso di dire che l'integrale diverge andiamo a fare un esempio facciamo solo questo esempio e poi facciamo baule e poi facciamo baule e poi facciamo baule andiamo cioè a fare l'integrale andiamo a fare l'integrale tra meno infinito e più infinito di 2x fratto 1 più x quadro di x questa funzione qui fa così la sua primitiva una sua primitiva è uguale a è uguale a logaritmo di 1 più x quadro più costante questo è un integrale che abbiamo già fatto qui allora come si fa quest'integrale abbiamo detto si deve separare dopo avermi dato a separare in zero posso anche farlo in uno non cambia niente posso farlo anche in un altro punto però per comodità lo faccio in zero allora se faccio l'integrale tra zero e b di 2x fratto 1 più x quadro in dx questo fa logaritmo di 1 più b quadro che è logaritmo di 1x quadro in b fa logaritmo di 1 più b quadro in zero quadro quando b tende a più infinito questo integrale fa più infinito e quindi posso scrivere che l'integrale tra zero e più infinito di 2x fratto 1 più x quadro in dx questo fa più infinito perché la funzione è di segno costante similmente se vado a calcolare l'integrale tra meno infinito e zero di 2x fratto 1 più x quadro in dx questo fa meno infinito di conseguenza qual è l'integrale di questa funzione? non esiste perché uno fa più infinito e l'altro fa meno infinito uno potrebbe dire ma se io faccio l'integrale tra meno b e b di 2x fratto 1 più x quadro quindi dx questo integrale siccome la funzione primitiva è pari valutata in b valutata in meno p è uguale faccio la differenza l'integrale viene zero o se preferite siccome la funzione integrante è dispari vi faccio il grafico della funzione integrante qua allora siccome la funzione integrante è dispari integrata tra meno b e b l'area viene zero per b che tende a più infinito uno è tentato di dire che questo faccia zero allora questo modo di procedere esiste ma ha un nome preciso si chiama integrale in valor principale e non lo vedete quando vi serve ma non è l'integrale perché? supponiamo che io invece di fare l'integrale tra meno b e b faccio l'integrale tra meno b e 2b qua ci metto 2b allora che cosa mi viene? mi viene logaritmo di 1 più x quadro valutato tra b e meno b quindi viene logaritmo di 1 più 4b quadro fratto 1 più b quadro se vi ricordate la differenza dei logaritmi è logaritmo del rapporto sarebbe logaritmo di 1 più 4b quadro meno logaritmo di 1 più 4b quadro stavolta quando tende quando b tende a più infinito che succede? il limite non è più zero ma quanto fa? c'è logaritmo di 4 vabbè 2 logaritmo di 4 quindi che succede? se io prendo questo insieme non simmetrico il limite mi fa un altro numero se lo prendevo un po' più a sinistra mi faceva meno logaritmo 4 se lo prendo simmetrico mi viene zero se lo prendo un po' spostato a destra mi viene logaritmo 4 e allora quanto faccio l'integrale? vedete che non c'è senza addirittura se qua c'è invece di invece di 2b scusate qua era 2b se ci mettessi b quadro qua avrebbe b alla quarta b alla quarta su b quadro va a infinito e questo va a infinito allora il limite se io faccio invece di fare chi è che mi mi chiama l'ordine del medico che quello la prima di fare il limite devo fare l'integrale esattamente simmetrico io devo fare un pezzo e poi mi allargo se questo penso lo prendo asimmetrico oppure mi allargo in un modo diverso a destra e a sinistra il limite potrebbe fare una cosa diversa secondo voi a che è dovuto questo fatto? al fatto vi ricordate il fatto dei serbatoi? questo serbatoio è più infinito questo serbatoio è meno infinito allora aggiustando le cose io posso far uscire calcolando un po' prima l'area positiva dell'area negativa posso far uscire il limite che mi sono è molto simile al problema che incontriamo con le serbatoi a termini di segno se tutti e due questi integrali sono infiniti questo cambiato di segno chi è? è l'integrale della parte negativa questo qui è l'integrale della parte positiva se l'integrale della parte positiva e l'integrale della parte negativa sono infiniti allora ci stanno ok pausa grazie 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 grazie